Una lezione per l'Unione Europea, via Draghi, Meloni di fronte alla crisi. Oggi ovviamente andremo ad analizzare più o meno superficialmente con la becera propaganda di Orban dal punto di vista nazionale conservatore i risultati delle elezioni di ieri in Italia. Sentite TG.com che ha una testata berlusconiana e con forti interessi francesi dentro, Mediaset. Sovranisti europei esultano per la vittoria di Meloni dall'Italia una lezione d'umiltà all'Unione Europea. Poi mettono le testate principali internazionali, cioè la CNN praticamente, ma anche andiamo a leggere altre, la BBC. Cioè capite che non mettono Daily Wire, non mettono giornali conservatori che pur fanno, registrano degli ascolti, delle visite magari più alte a volte rispetto a questi siti che appartengono a quella vecchia stampa che ormai è stata riconosciuta da molti, non da tutti, ma da molti come portavoce di quella correzione, distorsione della realtà attraverso i fact checkers, cioè coloro che controllerebbero la verità delle notizie. Sentite, Bardella, eurodeputato di Marine Le Pen, gli italiani hanno dato una lezione d'umiltà all'Unione Europea che per voce della signora von der Leyen ha preteso di imporre loro il voto qualche giorno prima, ve l'ho raccontato, nell'Università Americana. Nessuna minaccia di alcun tipo può fermare la democrazia. I popoli europei alzano la testa e prendono in mano il loro destino. Eric Zemmour, sempre in Francia, gioia per il popolo italiano, orgoglioso e libero che rifiuta di morire. Vox, Santiago, Abascal, stanotte milioni di europei ripongono, scusate, le loro speranze sull'Italia. Meloni ha indicato la strada per un'Europa orgogliosa e libera di nazioni sovrane. Svezia al nord, Italia al sud, con le recenti elezioni praticamente vinte dal partito anti-immigrazioni Svezia. I governi di sinistra sono quelli di ieri, lo scrive su Twitter, la vice capo, dicono leader in inglese, di AFT in Germania, Beatrix von Storch. Congratulazioni a Giorgia Meloni, che sarà la prima donna a governare l'Italia, ma dai media sentirete che ha vinto il fascismo d'estrema destra, come il Brasile. Ora l'Italia è dio, patria, famiglia, così il figlio di Jair Bolsonaro, Edoardo Bolsonaro. La realtà è un bel po' più complessa, anche dal punto di vista dei complimenti, delle congratulazioni, dei alleati, tra virgolette, ungheresi, di Fidesz di Orban, ma anche di Toroskoi. Sentite cosa scrive su Twitter, congratulazioni Giorgia Meloni, Salvini e Berlusconi per le elezioni di oggi, portavoce di Orban, Orban Bollage, che loro scrivano Bollage, Orban, in quanto in ungherese i nomi, il cognome si capovolgono, come ormai sapete su questo canale. In questi tempi difficili abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione, un approccio comuni alle sfide dell'Unione Europea. E pubblica le foto di Orban con ogni capo del cosiddetto centro-destra, che come ha detto Orban nel 2019 a Roma da Treiu, anche Fratelli d'Italia in Ungheria, sarebbe al centro, non di certo destra conservatrice, ma manco lontanamente a parlarne. E la questione principale su cui divergono le strade tra Fidesz e Fratelli d'Italia, ma anche Forza Italia ancora di più, è l'Ucraina, le armi all'esercito ucraino e il sostegno economico-finanziario all'Ucraina, ma non solo le sanzioni cosiddette antirusse a livello europeo, dell'Unione Europea. Tanto odiate, bloccate sempre, a livello economico, finanziario, energetico soprattutto, dall'Ungheria di Orban. Sentite i giornali, il giornale più letto in Ungheria conservatore, quello che è diventato quest'anno, Vodoy Tashok. Come commenta, gli italiani hanno dato chiaramente un segnale all'Europa, questa è quindi una lettura in chiave eurocritica, mentre i giornali allineati, ucrainisti, europeisti, il più grande, il più letto in Ungheria, il primo assoluto, Index, che cosa parla? Dice che Giorgia Meloni ha radici neofasciste, il monumento sociale, la gioventù con l'alleanza nazionale, poi ministro di Berlusconi, per la gioventù, e poi parla del suo euroscetticismo. Parla di come il governo che si sta formando, che si formerà nei prossimi giorni, settimane, e tenete conto di una cosa, la sinistra europeista, la nuova sinistra europeista in Italia, i neoliberali, hanno mattarella al Quirinale. E poi anche nel gioco delle coalizioni c'è sempre la stampella, la possibilità di fare un governo delle nuove sinistre, i tre blocchi, terzo polo, 5 stelle, più centro-sinistra, che di centro, dalla prospettiva nazionale conservatrice ungherese, non ha proprio nulla, dal punto di vista degli us soli, us culture, LGBT nelle scuole, cittadinanza come premio e non per sangue, immigrazione illegale, sbarchi, possiamo andare avanti per ore. Sentite come Index, che fa copia e incolla praticamente con AP, che cosa dice? Che è il primo governo di estrema destra dai tempi di Mussolini, quindi dell'Italia repubblicana. Esagerano leggerissimamente un po' e vedremo perché. Intanto Fides vince per l'ennesima volta ieri, ve lo segnalo in una parentesi, nelle elezioni territoriali, terza circoscrizione, distretto, nella città di Mischols, ennesima vittoria con più del 50%. In Italia però queste elezioni non vengono raccontate, chissà perché, non perché territoriali, ma perché scomodi nel risultato. Avesse vinto la sinistra come a Budapest qualche anno fa, si sarebbe gridato subito al ritorno della democrazia in Ungheria. Questo è l'europeismo. Record di astensione, il primo partito in Italia è composto da chi non si è arrecato alle urne ieri. Non votano quasi 4,5 milioni di italiani, l'affluenza al 63,91%. Quando il 3 aprile si è votato in Ungheria? Gli europeisti hanno detto che in Ungheria non conta il voto perché solo il 70 virgola è andato a votare. Ecco, in Italia ancora, ancora meno e poi criticano l'Ungheria. Anza, i risultati andiamo a vedere proprio nei numeri, nei fatti. In questo momento andiamo ad aggiornare la pagina. Intanto in Russia succedono brutte cose, come vediamo. Centrodestra 44,05. Centrosinistra, in realtà questi nomi della politica italiana non riflettono ciò che penso io, cosa pensa il conservatore medio ungherese. 26,05. Azioni Italia vive 7,76. 5 stelle 15,48 che ha tenuto sorprendentemente al sud con la questione tanto controversa del reddito di cittadinanza e dei bonus. Se andiamo a vedere come sono composte le coalizioni. La sinistra avrebbe i voti, le nuove sinistre, questi tre blocchi hanno praticamente quasi il 50%, 49, 48, quello che sarà definitivamente. E possono chiedere a Mattarella, in caso estremo, di andare a comandare in caso di crisi futura della coalizione di centrodestra, che dentro ha anime ovviamente diverse come ogni coalizione. Perché la Lega è depotenziata quasi ai livelli di Berlusconi e quindi l'ucrainismo, per esempio la questione ucraina, dividerà sempre di più non l'Europa, ma l'Italia. E' un governo che non sarà così compatto quello di centrodestra e c'è sempre la mano dell'Europa tramite Mattarella. C'è sempre la questione poi dell'astenzione che ho sottolineato, che è molto molto importante secondo me. La questione energetica, della crisi energetica che vedremo più in là in questo episodio, è il principale problema contingente dell'Italia. Poi c'è sempre i problemi storici come la denatalità, il crollo demografico, l'immigrazione di massa, tutto quello che sappiamo. Fenomeni ormai possiamo dire irreversibili. L'Italia sta cambiando volto. Vi segnalo che Italia sovrana e popolare, un movimento che si è presentato alle elezioni, molto popolare, gioco di parole orribile, tra chi mi segue in questo canale, che ha nel logo la stella rossa, non entrerà in Parlamento, non è in coalizione, ha preso circa l'1% tra l'1 e il 2, ho visto 1,5 sarà più o meno definitivamente, credo. Rizzo, Ingroia e Toscano non entreranno in Parlamento. Quindi le opposizioni anche come Italexity, partiti, movimenti, antisistema, cosiddetti antisistema, non sono riusciti nel loro intento. Questo è importante. Qualche giorno prima delle elezioni, Casa Bianca, chiunque vincerà non lascerà la coalizione a favore dell'Ucraina, quindi della Nato, non c'è uno scenario da fine del mondo. Quindi tutto molto rassicurante, ho visto anche la Maggioni sul Rai 1, sul Tg1 e anche Mentana. Quindi tutto quello che è chiamato establishment, da chi veramente è dotto e moralmente superiore rispetto a noi, è rassicurato anche dalla presenza della Meloni a Palazzo Chigi. Meloni, questo qualche giorno fa, il 22 settembre, con noi al governo si armi a Kiev, non solo. Salvini critica le sanzioni alla Russia. Sia Meloni, non ci sfileremo, non ci sfileremo a Cernobbio. Va avanti con la cosiddetta agenda Draghi Davos 2030, se preferite del grande R. Se volete sostenere questo tipo di informazione indipendente dai partiti, il stampo nazional conservatore il più possibile autentica, secondo il mio punto di vista, potete farlo attraverso i due metodi indicati in descrizione. Paypal, anche mensile, come vedete, e bonifico bancario. Ringrazio Emanuele Oegiro per il sostegno mensile e Simone dall'Olanda, che mi chiede di raccontare la situazione energetica un po' in tutta Europa, in Francia, Svizzera e Grecia. Citate. Ti accontento subito. Perché la Meloni dovrà badare soprattutto alla crisi delle bollette, al caro bollette che arriverà alle famiglie d'Italia, che già stanno facendo molti danni all'economia, alla società, alle famiglie italiane. Sentite sulla Francia, tanto per dare una spolverata di notizie nuove, è nei guai l'industria delle centrali nucleare, la rete nucleare francese tanto famosa, ex potenza esportatrice di corrente, ora praticamente non più, almeno quanto viene detto persino dai ministeri francesi, dalle aziende che gestiscono, come la EDF, questa rete nel paese transalpino. C'è di fatto una crisi dovuta a delle scelte politiche dei governi precedenti, soprattutto quello di Hollande negli anni passati, prima di Macron. Privatizzazione selvaggia della rete, quindi via dalle mani pubbliche, e poi circa la metà dei reattori presenti in Francia sono stati nei mesi, negli anni, sospesi per manutenzione o per crisi economiche di vari motivi. Poi ci sono anche le influenze dei partiti verdi, dei verdi. Il governo guidato dal partito di Macron, ma anche altri, una difficile coalizione, praticamente un governo abbastanza traballante nel Parlamento francese, e sappiamo che Macron non è il primo ministro, ma il Presidente della Repubblica, che però è molto molto potente nel paese. Si prepara la Francia, Macron, a costruire nuovi reattori per placare la fame di elettricità in questo periodo terribile, proprio per la crisi economica causata, secondo gli europeisti, dalla guerra di Putin, soprattutto quando in realtà è il contrario, soprattutto dalle sanzioni cosiddette antirusse dell'Unione Europea, approvate da tutti, tranne che dall'Ungheria sulla petrolio, per esempio. Intanto andiamo a vedere i prezzi per kilowattora in Unione Europea nei vari paesi, questa è Sorgenia, attuali, la Grecia all'undicesimo posto più caro, e la Francia al dodicesimo, l'Ungheria, guardate caso, all'ultimo, l'Italia si piazza al quinto posto, la Svizzera è tra terzo e quarto, più o meno come il Portogallo, come ho controllato in un altro sito, potete trovarlo tranquillamente in rete. Per quanto riguarda il gas, il metano, l'Ungheria sempre l'ultimo posto, chissà perché, mentre la Francia, l'Italia, la, come si chiama, la Grecia, la Svizzera anche, sono nella parte medio-alta, soprattutto alta. Intanto la Svizzera, nuova proposta per risparmiare le docce, l'acqua, quindi i riscaldamenti, la corrente o anche il gas, dipende come scaldate l'acqua nelle vostre case. Cosa dice una certa simonetta di un ministero elvetico? Che cosa fate? Fatevi la doccia insieme, in coppia, e viva, e viva. Altra proposta del passato che ha fatto molto discutere, proposte, sto parlando di proposte di legge e non leggi, fino a tre anni di galera per chi mette il termostato sopra a 19 gradi, nelle proprie case, sempre in Svizzera, oppure, sanzione pecuniaria, una multa da 30 franchi a 3.000 franchi, 3.000 franchi sono tanti soldi. Hirodo Pontu, i greci cominciano a risparmiare sul carrello della spesa, sulla propria alimentazione, cosa drammatica, terribile, sia ben chiaro. Ogni, una persona su 5 in Grecia, non sa, dice di non sapere d'inverno, soprattutto, come pagare le proprie bollette energetiche, l'inflazione all'11,4% su base annua, l'aumento del prezzo del gas del metano a 261,3% in più dell'anno scorso, la corrente più 38,5%. C'è tutta la pagina delle proteste in questi tre paesi, perché c'è stata la protesta per la destituzione, per le dimissioni a favore della dimissione di Macron, per la Frexit, l'uscita dell'Unione Europea della Francia, per l'uscita contro la Nato e contro le sanzioni ufficialmente antirusse. Proteste anche in Grecia, censurate dai medi allineati in Italia. In Ungheria, invece, M1, i medi, il telegiornale pubblico ungherese, invece lo racconta sommariamente, ma almeno lo racconta meglio, della RAI, come è successo anche per la questione dell'immigrazione e anche per le sanzioni. Proteste in Grecia contro l'invio delle armi a Kiev, all'Ucraina, e contro le sanzioni, sempre qui. Poi ci sono state le proteste anche in Italia, bruciate le bollette, ve lo sto raccontando man mano, quando posso. La CNN ha ragione l'Ungheria e non la meloni su questo tema, perché per risolvere il caro bollette devi ritirare le sanzioni, devi continuare a importare dalla Russia o dai tuoi fornitori, soprattutto Russia per l'Ungheria, gas e altro come petrolio o carbone, anche se sul carbone l'Ungheria ha detto sì alle sanzioni europee, non capisco perché neanche per la Russia è stato un grande problema comunque. Il grande, grande si fa per dire, conduttore anti-ungherese, anti-Orban, Richard Hess dà la mano in un fuorionda al ministro degli esteri ungheresi, Siarto Peter, e ammette che sulle importazioni dalla Russia di gas e petrolio avete fatto bene, siete messi bene perché non avete approvato le sanzioni volute all'Unione Europea, chiaramente, suicide. Speriamo bene per l'Italia con la meloni, che ha un indirizzo completamente diverso su questo tema centrale oggi rispetto al governo ungherese di Fides. Grazie per aver visto questo episodio al prossimo Tra Italia e Modio e l'Orsaga. Grazie.